Riesce ad immaginare un futuro senza scienziati, addio al progresso o a scoperte sensazionali, niente più cure innovative. Riesce ad immaginare un futuro senza musicisti, attori o performer, niente più teatro, opere mozzafiato. E senza gli artigiani, riesce ad immaginarlo l'eclissi dell'abilità manuale, la perdita della grande tradizione italiana. Nemmeno noi. Ed è per questo che sosteniamo i giovani talenti. Ogni anno, infatti, attraverso numerosi bandi, selezioniamo molti borsisti, con la proposta progettuale più meritevole, aiutandoli a realizzare i loro sogni professionali. Offriamo borse di studio in ambito universitario, artistico, sportivo e tirocini nel settore dell'artigianato, favorendo giovani in situazioni di svantaggio economico, dato che al giorno d'oggi essere soltanto bravi non basta. Quando selezioniamo gli studenti universitari con i bandi Ateneo, le aiutiamo a completare il loro percorso formativo, per preparare al meglio i progetti di studio e ricerca. Le selezioni che facciamo con i bandi Atletess permettono loro di perfezionare la disciplina, mettendoli in contatto con grandi realtà dello sport. Musicisti, attori e artisti circensi, li selezioniamo con i bandi in scena e la loro passione si trasforma in professione. Mestè è dedicato a coloro che desiderano perfezionarsi nelle attività tipiche dell'artigianato, all'interno di aziende d'eccellenza che selezioniamo con cura. Per noi della Fondazione Cecilia Gilardi, il sostegno delle nuove leve è fondamentale. Per questo ti chiediamo di fare la differenza insieme a noi e rendere tutto ciò possibile. Grazie a tutti! Grazie a tutti!